era uscito il nome di un ragazzo mentre lei si provava a casa il vestito da sposa chiama un figlio praticamente gli dice senti ok lasciami il nome gli dice lei che quando lui sta in ospedale la faccio chiamare questo gli dice il nome ed era lo stesso nome che lei da piccola gli è uscito dal gioco questa gli ha detto ma dove sta? dice sto all'aeroporto sto partendo per Venezia insomma lei col vestito da sposa si mette il cappotto e poi l'aeroporto l'aeroporto era partito ma che spera perché io ho girato è bello e lei è partita ha chiamato poi l'amica